Truffatori, avete scocciato? Prima bussavate con la scusa del contatore per la bolletta del gas o dalla luce. Adesso telefonate per l'incidente stradale con le finte voci di un figlio o di un nipote e chiedete i soldi. Con me non passa, io non c'è ascolto. La polizia di stato ricorda, non siete soli, chiamateci sempre. Ma chi a te? No a me, alla polizia. Grazie.